Miglioramento dell'offerta sanitaria e sociosanitaria di Valtellina e Valchiavenna e nelle aree di montagna. E' questo il titolo della mozione approvata oggi in consiglio regionale presentata dai consiglieri leghisti Simona Pedrazi e Roberto Anelli per impegnare la giunta ad attuare quattro punti chiave per la riorganizzazione sanitaria della provincia di Sondrio. Nel documento si chiede di procedere secondo quanto previsto dal piano del Politecnico con le integrazioni dei sindaci per gli ospedali di Chiavenna, Morbegno e Sondrio. In quest'ultimo caso la regione sta valutando l'opportunità di costruire un nuovo ospedale nella zona vecchia. Nella mozione si chiede alla giunta di ripristinare progressivamente rientrata l'emergenza covid la funzionalità dell'ospedale Morelli con il ritorno delle tre alte specialità, di verificare la fattibilità del piano di rilancio del Morelli elaborato dai sindaci dell'Alta Valle e approvato dalla conferenza dei sindaci e di predisporre un crono programma per l'attuazione delle proposte considerate fattibili. Una serie di richiesti è duramente criticata nel merito e nel metodo da Ezio Trabucchi del pool giuridico del comitato a difesa della sanità di montagna. Io sto con il Morelli che chiede maggiore chiarezza contestando sia i contenuti della mozione sia l'assenza di tempistiche certe. Si dica con chiarezza entro quanto tempo si ripristino tutte queste specialità, queste alte specialità del Morelli. Si scriva nero su bianco. Se si vuole anche scrivere che nel frattempo si vuole studiare anche quell'ipotesi dell'autonomia e della fondazione di partecipazione, benissimo. Ma oggi la gente dell'Alta Valle ha bisogno del suo ospedale. Io penso che rientrato il Covid ormai siamo in una fase importante con le vaccinazioni. Io penso che se dovessero capitare situazioni come quelle che abbiamo registrato con dei morti perché manca un ospedale, manca la tempestività di un'assistenza ospedaliera, io credo che la regione andrà ad assumersi una responsabilità gravissima. Mi auguro che ci sia da parte della Lega e di tutto il Consiglio regionale un sussulto di responsabilità, di chiarezza nei confronti della gente dell'Alta Valle, nei confronti di tutta la sanità di montagna che necessita di una presenza ospedaliera puntuale, efficace e non frutto ancora di tante parole come quelle che abbiamo vissuto, questo percorso di parole vissuto in questo anno e mezzo.